Si dividono la posta in palio Castelnuovo e Vastese. Sul neutro di Pineto termina 1-1 con gol di Alessandro e Ripa al termine di 95 minuti in cui ad un primo tempo combattuto ed equilibrato fa da contraltare una ripresa spezzettata e povera di occasioni. In avvio di gara sono i neroverdi a farsi preferire, i bomenesi fanno la partita, la Vastese si fa pericolosa grazie alle ripartenze sfruttando la velocità e l'esperienza di Jonathan Alessandro. primo acuto all'ottavo, pennellata di degidio dalla bandierina, spizzata di Orlando oggi in campo dal primo minuto con Terrenzio out per infortunio e Cangemi che da distanza ravvicinata impegna la difesa bianco-rossa che si salva come può. La risposta della Vastese con due conclusioni da fuori al decimo con il tiro a giro di Alessandro e un minuto più tardi con la stoccata di Attili, entrambe fuori bersaglio. La gara si accende al diciannovesimo, il Castelnuovo prova a complicarsi la vita da solo pasticciando in fase di disimpegno e favorendo il recupero di un attaccante di razza come Jonathan Alessandro, velocissimo a rubare il pallone a Casimirri e a freddare con una gran botta dal limite Grace per l'1-0 Aragonese e il terzo sigillo stagionale in altrettante partite. Il Castelnuovo però non ci sta e risponde colpo su colpo pareggiando i conti al 34esimo con un sinistro a incrociare perfetto di Ripa che raccoglie l'apertura di Lorenzo Emili e inzacca la staffilata di prima intenzione all'angolino opposto dove Di Rienzo non può arrivare. La gara è bella ed equilibrata con le due formazioni che non si risparmiano. Al 40esimo Cangemi si immola salvando su Panaioli anticipato in area proprio al momento della conclusione. Ottimo l'intervento del terzino neroverde, occasionissima in pieno recupero al 47esimo per il Castelnuovo. Azione rocambolesca con Lorenzo Emili che va alla conclusione ravvicinata per ben due volte. Prima la girata, poi il colpo di testa chiamando Di Rienzo al doppio miracolo. Quindi Ripa sul primo palo e ancora Di Rienzo miracoloso a salvare la propria porta e la vastese tra le proteste neroverdi che avrebbero voluto il gol. Poi Lorenzo Emili rimane a terra per qualche minuto ma sembra poter proseguire. La prima frazione termina così sul parziale di 1 a 1. In avvio di ripresa e ancora il Castelnuovo a partire con il piglio giusto e a farsi pericoloso al terzo minuto. Sanseverino dalla sinistra sventaglia dalla parte opposta per Petronelli. La conclusione che chiama ancora una volta in causa un ottimo Di Rienzo. Poi Ripa termina in posizione di fuorigioco. La risposta della vastese si fa attendere solo qualche minuto ed arriva puntuale all'ottavo in contropiede con il solito Alessandro che carica il destro ma stavolta imprecisa la sventagliata termina fuori. Girandola di cambi poi per i due tecnici che provano entrambi a inserire forze fresche. Di Fabio richiama Petronelli e getta nella mischia ragni. D'Aderio risponde con Agnello per De Angelis per dare maggiore densità al centrocampo ma il gioco nella ripresa è spezzettato. Le due squadre si annullano a vicenda e rare sono le occasioni degne di nota. Bisogna attendere il 34esimo quando proprio il neoentrato Ragni si mette in proprio entra in area ma al momento della conclusione si fa recuperare dalla difesa bianco-rossa. Ultimo sussulto al 40esimo la rovesciata di Martiniello ma la conclusione è centrale e Grace può bloccare senza patemi. Termina così 1-1 e il terzo pareggio consecutivo per la Bastese attesa domenica dalla trasferta di Piedimonte contro il Matese. Primo pareggio stagionale invece per il Castelnuovo impegnato già mercoledì nel recupero della gara contro il Fano. Peccato perché mi abbiamo regalato il primo gol altrimenti non mi risulta di vedere altre occasioni da parte della Bastese se non il gol che abbiamo regalato noi. Mi sono stati bravi poi a recuperare la partita e a fine del primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni clamorose per passare in vantaggio. Non ci siamo riusciti e nel secondo tempo ci abbiamo provato per tutta la gara però è venuta fuori anche un po' di stanchezza. Non siamo stati magari molto lucidi però sotto il profilo dell'impegno del gioco non posso dire niente ai ragazzi perché hanno voluto fare sempre la partita. Hanno cercato sempre di costruire qualcosa, si è fatto meno del primo tempo però comunque è una squadra che è propositiva che ha provato a vincere la partita fino alla fine. Certo a me piacerebbe averli tutti a disposizione perché fuori abbiamo dei giocatori importanti per noi che purtroppo non sono mai potuti essere della partita ma anche delle amichevoli. Quindi conto di recuperarli il più presto possibile. Se li avevo a disposizione adesso mi avrebbero fatto comodo perché mercoledì appunto c'è già subito un altro impegno. Purtroppo sarà difficile quindi dobbiamo centellinare le forze, recuperarle e poi vedere mercoledì. E' un'altra partita tosta. A parte che questo è un campionato molto equilibrato, le partite sono tutte toste. Se fanno oggi mi sembra che abbia vinto quindi è una squadra che l'anno scorso faceva una categoria superiore. Quindi sappiamo che è una squadra forte ma ci prepareremo in questi due giorni che abbiamo fatto già precedentemente per cercare di batterli. Poi vediamo se siamo bravi a riuscirci. Sì, al primo tempo si è cercato di far gol più facilmente, poi le forze sono venute anche meno e ci siamo adeguati un po' a chi cercava gol e chi cercava di ribaltare la situazione. E' un po' questo il succo del discorso. Per quanto riguarda i pareggi, i pareggi non è altro che la successione poi degli episodi che vanno dentro o meno. E quindi poteva essere anche diversa la partita e non perché volevamo fare il pareggio. Noi abbiamo fatto tre partite fuori casa, compresa quella interna e quindi certamente valutiamo tutte le cose. Abbiamo segnato sempre e valutiamo anche questo. Stiamo in crescita, abbiamo dei giocatori che devono crescere tanto e non è uno e quindi non puoi regalare 3, 4, 5 giocatori che devono crescere sotto il profilo della forma, sotto il profilo tattico, sotto il profilo di avere dei ragazzi che affrontano questo campionato per la prima volta. E' gente abbastanza giovane, però poi abbiamo anche un 35enne che sembra un ragazzino e quindi questo ci fa piacere anche su questo insomma. E quindi Alessandro ha fatto gol, un gran gol. E' il terzo ma è un gran gol. E' un gol da giocatore, da attaccante e quindi se uno cerca di rubare qualcosa a qualcuno che è esperto deve rubare queste cose qui. Ne vedi pochi di questi gol in questa categoria. Oggi potevamo fare molto meglio il centrocampo dove noi al primo tempo potevamo mettere in difficoltà e non lo abbiamo fatto perché stiamo aspettando anche altri giocatori che crescano e ce li abbiamo. E quindi questi giocatori bisogna avere pazienza. Qui forse si vuole vincere sempre tutto, subito, tutto. Vedo che il Real Madrid perde, la Juve perde e quindi squadre che sono nate per fare determinati campionati e perdono tutti. Ci vuole anche un po' di pazienza, un po' di equilibrio, un po' di capire come vanno le cose. Io mi arrabbio per quello che è il mio compito e di vedere gente che va in campo e cerca di portare a casa un risultato. Oggi ho visto anche questo, però bisogna crescere in fretta.